Già ipotecata. E te pareva? Ci avrebbe un'idea? E beh, fatta venire. Ma andrà a casa te, mica so io. E l'idea mi è venuta. E' un'idea per la quale servirebbe un'abilità istrionica che non so se mi posso fidare di voi due, ma stavolta fidamese. E' un'idea che ci consentirebbe di castigare uno che da tempo ha castigato. Il burino più infame di tutti i burini. Manco sì. Scansi. Macelleria Rinaldi, chi parla? Pronto? Pronto? Eh sì? Sono la governante del conte di Simone. Largo a Renula 2. E vorremmo un etto di carne, un etto di carne, un etto di carne. Un chilo che ha detto? Un chilo? Un chilo di carne di vitella, decente. Decente? Modestamente ho della carne che sembra viva per quanto è fresca. Vuole ripetere il suo indirizzo che mando mio figlio? Conte di Simone. Largo a Renula 2. Grazie, buongiorno. Ma che buongiorno? Non dimenticavo. Via a suo figlio il resto di cento mila lire, perché non abbiamo moneta spicciola in casa. Tranquilla, sarà fatta. Grazie, l'aspetto, buongiorno. L'ha bevuta? Ma vaffa il culo, buongiorno. Dove vai? Il tarconte di Simone. Ah, ultimo piano. Ma l'ascensore è rotto. Sei tu il ragazzo della carne? Sei io, sei io. Ah, bene, bene. Bravo, bravo. L'ascensore si è fermata al lattico. Te la devi fare tutta a piedi. Mi dispiace, mi dispiace proprio. Gregorio, mi raccomando, fai le cose per bene. Sì, signor Conte. E quando arriva a casa la signora condessa, digli pure che può prendere la macchina grande, che tanto io per andare al maneggio mi piglio un'utaxi. E il cagnolino, signor Conte? Ah, la volta la fa una passeggiata, così fa pure pipì. Senti, caro, hai portato il resto delle centomila, sì. 94 precise, signor Conte, papà. Bene, bene, bravo. Di papà mi fida, è un bravo uomo. Sai, non te ne vamo spicci. Adesso che sali, te le dà il maggiordomo le centomila. Gregorio, Gregorio! Sì, signor Conte. Mi raccomando, tagliele tu le centomila al ragazzo, ora che sale. Sì, bravo. Non ti preoccupare, un tipo strano, ma non morde. Vai tranquillo, vai. Ah, senti, scusa. No, queste sono per te. Grazie. Mille lire. E mi raccomando, studia, eh. Direzione Mariano. Andiamo a riscaldare. Ah, questo è mandragata. Grazie.